Ciao a tutti ragazzoli e bentornati, bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi siamo qua in un video unboxing, da come potete vedere, ma probabilmente dalla miniatura avrete già visto anche il contenuto. Fa niente, apriamo comunque la scatola assieme, prendiamo il nostro amico coltello e andiamo a vedere subito quello che c'è dentro. Non vedo l'ora di tirare fuori il contenuto. Mamma mia ragazzi è un grande upgrade per me, no, poi è una cosa anche semplice e stupida, ma poi vi spiegherò meglio. Vedo già una scatola e già mi si illuminano gli occhi. Vabbè, una delle due cose probabilmente già la conoscerete, l'altra invece magari no. E potrebbe tornarvi davvero utile visto la qualità, da quello che ho potuto vedere in altri video e dalle varie recensioni, tutte ottime. Veramente una qualità a prezzo fantastica. Ecco qui ragazzi, allora iniziamo con la tastiera RGB, ha i tasti switch meccanici, quelli brown e ha un sacco di chicche. Ovviamente è una di quelle piccole, quindi non ha il tastierino numerico dall'altra parte. L'ho voluta prendere così perché ero veramente scomodo a usare l'altra, soprattutto per giocare. Quando stavo col mouse mille volte mi sbattevo contro e poi non serve a niente. Il resto, almeno per quello che ci faccio io, alla fine ci edito video, ma le tastierine e le parti di là non mi servono. Gioca un sacco e soprattutto con gli FPS ha un sacco di feature veramente veramente interessanti. Ora la andremo a aprire assieme. Ma l'altro pezzo forte è il Logitech G502. Ragazzi, molti di voi lo conosceranno, anzi penso quasi tutti o comunque chi è nel mondo gaming, PC eccetera eccetera. È uno tra i migliori mouse, ovviamente poi dipende da un sacco di fattori, se è dalla dimensione delle vostre mani, se è da come siete abituati voi. Io sono diversi anni che lo volevo, non l'avevo mai preso. Finora avevo spaziato tra diversi tipi di mouse, sia un po' più costosi che quelli anche cinesi. Ne ho provati veramente tanti tanti ed era arrivato il momento di provarlo. L'ho pagato sui 40 euro circa, comunque era scontato. Ultimamente è sempre in iper sconto. Niente, vi andrò a dare poi le mie impressioni dopo qualche giorno di prova. Uguale farò con la tastiera, la proverò per diversi giorni e poi vi darò le mie impressioni. Andiamo giusto ad aprirle per vedere il loro contenuto. Iniziamo dalla tastierina, scatola carina, molto sobria. Possiamo vedere è molto pulita, c'è la tastiera qui e se riusciamo a rimuoverla senza scassare tutto. Tiriamo fuori prima la tastiera e vediamo cosa contiene il resto della scatola. Qui vabbè c'è un piccolo manuale, mechanical keyboard e probabilmente ti diranno soprattutto come cambiare le varie luci eccetera eccetera. C'è anche l'italiano ragazzi, vabbè come si vede una paginetta fronte e retro e ci dà comunque i parametri di base, i tasti, le funzioni multimediali speciali con tutto va bene. Ovviamente i shortcut eccetera eccetera anche per cambiare tutte le varie intensità di luci, colori e quel che consegue ragazzi. Poi vediamo qui dovrebbe esserci qualcos'altro nascosto qua dietro. Infatti sì, tiriamo su e dietro troviamo il cavo, è un cavo usb usb c perché questa tastiera ha la figata che appunto come potete vedere non ha il cavo, si può rimuovere. Quindi si può collegare anche con diversi altri cavi e il robino per tirare via i tasti. Rimettiamoli qui e andiamo subito a vedere la tastiera in sé e per sé. Madonna ragazzi, è bellissimo, a parte che ha un peso veramente top, si sente proprio la qualità e sentiamo il rumorino. Ok, beh direi che è perfetto. Ho scelto appunto gli switch quelli brown perché contrario di quelli blu che mettono un click allucinante, la volevo un po' più silenziosa. E diciamo che sono un mix tra quelli rossi e quelli blu e hanno comunque un bellissimo feedback quasi da dare spingerti indietro un po' il dito una volta premuto. È veramente bella, qualità ottima, non so se da qua si riesce a capire, è fatta davvero davvero bene ragazzi. Non vedo l'ora di vederla accesa, qua dietro vediamo anche i due piedini ma è già molto alta. Quindi adesso poi vedrò se tenerla con i piedini su o con i piedini direttamente giù, però su invece è comoda. Direi di accenderla, cosa ne dite voi? Sì, andiamo a vedere com'è accesa. Ragazzi è una bomba, è veramente bellissima ma non perdiamo altro tempo, torniamo dopo sulla tastiera. E ora passiamo al mouse perché è il mouse, è un sacco che lo volevo. Ce l'andiamo a tagliare anche qua che se no non riesco ad aprirlo. Facciamo piano che non voglio scassare la scatola. Ok, ce l'abbiamo fatta ed eccolo qua. Dentro c'è anche un mega adesivone della Logitech. Il mouse si presenta così in scatolato, sembra del sushi o quei tortini che ti mettono, che ti vengono al supermercato con la scatolina. Va bene, ecco qua il mouse ragazzi. In tutta la sua bellezza, è bello. Adesso lo sento leggero ma adesso andiamo a vedere ovviamente la chicca che ha anche i pesi. Cavo molto bello, di gomma veramente morbido. Figo figo, davvero fatto bene. Oddio, è giustissimo, è perfetto per la mia mano ragazzi. È veramente perfetto. Poi vabbè, ovviamente adesso vi dirò. Oh sì. È bellissimo, c'ha questa rotellina che, sentite? Mi piace un sacco il rumore e anche il feedback che ti lascia alle dita. Veramente, dovreste provarlo ragazzi. E in confezione troviamo anche qua un piccolo manuale, tutte le robe con le varie lingue penso. E quest'altra piccola scatolina in plastica, veramente veramente fatta bene. E se andiamo ad aprirla troviamo dentro i pesettini per andare a rendere il mouse un po' più pesante, ovviamente in base ai propri gusti. I pesetti si vanno a inserire qui sotto, ok? Si tira via qua e si vanno a inserire qui sotto. E niente ragazzi, ora andrò a provarli. Magari ci vediamo qualche giorno dopo un po' un uso intenso sia nel gaming che anche nell'editing. Ragazzoli, eccomi qua indietro dopo qualche giorno in cui ho provato sia il Logitech che anche la tastiera Magic Refiner. Inizierei a parlarvi del Logitech che comunque è il più conosciuto e quello su cui potete trovare molte più recensioni. Devo dire che mi sto trovando veramente veramente bene. Non ho aggiunto nemmeno i pesi per quanto riguarda la mia comodità appunto nel peso del mouse stesso. Ho scaricato ovviamente dal sito della Logitech il Logitech G Hub per poter appunto settare tutti i vari tasti eccetera eccetera. E anche la luce, anche se comunque vabbè la luce si tratta solo di questo ma si può comunque scegliere il colore, cambiare il colore. Ah sì, anche i lettini qui da come potete vedere che stanno a indicare il DPI che uno ha appena messo. Anche quello ovviamente tutto regolabile. È veramente veramente tanto comodo, mi piace un sacco la rotellina che fa sto rumore e col tastino qui si può rendere cozzo succede. E appunto schiacciando invece il tastino qui si può far girare in eterno così libera, molto molto figo e rilassante, un po' un antistress diciamo. Non avrei molto altro da aggiungere, comunque è un mouse già molto conosciuto. Per 45 euro sicuramente è top da comprare. Io l'ho comprato a quel prezzo, il prezzo va un po' su, va un po' giù. Penso che ormai si stia stabilizzando comunque sui 40-45 euro per l'appunto. Prima si trovava a 80-90, generale eccessivo per un qualsiasi mouse penso. Sicuramente il cambio che ho fatto con questo, quello che avevo prima che era un semplice mouse da 12 euro, ne ho cambiati tantissimi. Posso dire che la differenza si sente assolutamente, si vede, è palpabile. Adesso l'ho usato per qualche giorno, poi in caso vi farò sapere tra qualche mese come andrà. Se continuerà a funzionare andrà sempre nello stesso modo. Sicuramente è molto scattante, non ho più avuto problemi. Con gli altri avevo un sacco di volte problemi, soprattutto quando giocavo ad FPS. Quando li muovevo ogni tanto il laser perdeva il tappetino, penso. Quindi non mi faceva girare il personaggio, non ho più avuto assolutamente problemi di questo tipo. Ma ora passerei direttamente alla tastiera, la Magic Refiner. Devo dire che le recensioni varie che ci sono su Amazon sono tutte ottime. Ne ho trovati diversi, anche perché comunque molti venditori scrivono marca. Non è segnato Magic Refiner, a me è arrivata poi la Magic Refiner. Questo 45 euro direi che è un best buy, ragazzi. Veramente è comodissima, piccolissima. Ha un peso comunque che fa sentire che avete qualcosa di fatto bene in mano. Ha questa colorazione nero opache, che a me piace tantissimo il nero opaco. Sì, se avete un po' le mani unte sudato comunque, vabbè, lascia giù un pochino le impronte. Ma proprio poco poco, a meno che non avete le mani unte di patatine, ragazzi. È veramente comoda, piccola. Adesso che ce l'ho qui sulla scrivania, già enorme, la mia scrivania, ho uno spazio allucinante. Potrei sdraiarmi e prendere il sole, veramente. Confronto l'altra che era tre volte più lunga e tre volte più larga. Sicuramente il feedback anche dei tasti è fantastico, nulla da dire. Ha un sacco di impostazioni. Adesso, se non sbaglio, tipo 18 diverse impostazioni per quanto riguardano appunto i LED. Come potete vedere ce n'è veramente tante. Non voglio stare a farvele vedere tutte. Oltre alle diverse tipi appunto di impostazioni, potete anche velocizzare la luce. Potete renderla più lenta o più veloce. Potete anche alzarla all'umosità o abbassarla perché alta al massimo, al buio, è quasi accecante in certe volte. Quindi magari si conviene ogni tanto abbassarla. Ne ha veramente tanti tanti belli. Questa che è fighissima. Cioè quando schiacci parte l'impulso luminoso da lì. Quest'altra che è uguale invece si illumina solo la letterina. Si possono anche registrare dei tasti, cioè tipo vabbè quello gaming che è tipo FN più G. Come vedete rimangono solo i tastini appunto avanti, indietro, destra e sinistra. E questi qua potete impostarla tutta. Quindi potete accendere anche tutti gli altri tasti che volete con i colori che volete. È una cosa veramente fantastica. Poi per tornare indietro o azzerare basta tenere premuto FN ESC per qualche secondo e si riazzera. Ok, da come potete vedere. Ecco, a me è successo questo. È vero, è rimasto lampeggiante la letterina X. Ve lo dico subito perché magari non riuscite a risolvere. Ci ho messo un po' a trovare. Ho trovato un video americano che lo spiegava. Basta tenere premuto FN e Z e torna ad essere normale. Ricordatelo perché ovviamente azzerando tutto, non lo so, lascia la lettera X come input iniziale che continua a lampeggiare. Non sapevo più come risolvere. Avevo provato a spegnerla, accenderla, scollegarla. Ma rimaneva sempre quel lampeggino finché non ho trovato questo video di questo americano che vi fa vedere proprio segno per segno tutti i tipi di pulsanti. Magari se mi ricordo e se lo ritrovo ve lo lascio sotto il video. Come già detto, gli Switch Brown che, parere mio, sono i migliori. A meno che non vi piace tanto il rumore dei tasti. Ma già questi comunque... Questi sentono bene. Quelli blu si sentono molto, molto di più. Devo dire che l'acquisto è stato top. Ovviamente se la usate per gaming o comunque per cose basilari, io la usate anche per editare video, non ho avuto alcun problema. Se lo usate per altre cose e magari avete bisogno del tasto numerico eccetera eccetera, allora può diventare un po' più dispendioso. Uguale se magari scrivete righe di codici o comunque siete dei programmatori e dovete programmare, allora quello diventa un attimo più un problema. Altra cosa molto figa se vi piace personalizzare le cose è che appunto potete tirare via anche i tasti e potete comprarne quanti ne volete. Ce n'è una miriade sia su Amazon che anche su Aliexpress con le faccine, con questo, con l'altro. È un altro buon motivo per magari poterla avere visto che si possono appunto cambiare. Uguale il cavo, come vi ho già detto è un cavo USB, quindi si può staccare e potete usare qualsiasi cavo USB con attacco C. Cioè i cavi che adesso trovate anche per caricare il vostro telefono. Potete mettervela benissimo nello zaino se dovete fare un viaggio. Io mi sono trovato benissimo, la ricomprerei domani se avesse un qualsiasi problema. Spero proprio di no, mi tocco. Spero che questo video possa esservi stato utile. Vi lascio comunque qua sotto il link, vabbè, sia del mouse che anche della tastiera. Ovviamente se li comprate tramite quel link, è un link a referral, una micro percentuale di pochi centesimi verrà data a me. Ragazzi non saprei che altro aggiungere. Penso e spero di avervi detto tutto su questa tastiera e questo mouse. Poi ovviamente per le cose più specifiche sicuramente potete trovare molti più dettagli online. Io vi davo un mio feedback, direi che è più che top. Vi ricordo di seguirmi qui se ancora non lo fate. E per favore attivate quella campanellina delle notifiche perché altrimenti vi perdete i video e le live. Ah, questa sera live alle ore 22 con un ospite speciale. Non dimenticatevelo. Non saprei che altro dire. Nient'altro. Bella!